L'Academy Code Native nasce per preparare giovani programmatori a diventare colleghi qui in Sursense. Studiare qui nell'Academy significa seguire un percorso strutturato impostato sul nostro stack tecnologico. Il programma infatti è frutto del lavoro di formatori e formatrici interni all'azienda e include una parte di studio e di documentazione ufficiale e una parte di esercizi che si basano su casi di studio reali che vengono rivisti poi in sessioni di review dedicate. La formazione è quindi molto verticale anche perché il fine ultimo è l'assunzione. Chi studia con noi si prepara a diventare esperto o esperta di back-end sui nostri progetti aziendali. È successo che già dopo tre mesi alcuni dei partecipanti siano entrati a far parte di team di sviluppo. Viviamo quotidianamente l'esperienza dei ragazzi in sede per rafforzare il rapporto di gruppo che per noi è un mantra ed è quello che davvero fa la differenza. Questo inoltre ci dà modo di coinvolgerli da subito nella realtà aziendale ed è un booster per l'apprendimento importante. I ragazzi e le ragazze hanno bisogno del contatto per confrontarsi, correggersi, per crescere. Dal punto di vista tecnico chi partecipa all'Academy impara i fondamenti della programmazione in Java, i framework, le librerie più diffuse, i concetti essenziali dei sistemi cloud native. Impara a padroneggiare i linguaggi e le tecnologie specifiche ma soprattutto impara a capire il perché che sta dietro le cose che serve per affrontare i problemi e le criticità sul lavoro. Per noi che li accompagniamo vedere i loro progressi e ritrovarli colleghi e colleghe è una grande soddisfazione ed è un percorso formativo che anche noi facciamo insieme a loro.